Avevo 5 anni quando mio padre è sparito. Io scendevo in strada ad aspettarlo e mi pettinavo i capelli per essere carina per lui, mentre mia madre lo cercava al telefono e mi diceva guarda che arriva, e invece non l'ho rivisto per 12 anni. Ci ha lasciato senza un soldo e mamma ha dovuto pulire centinaia di case per farmi studiare danza. Eri comparso quando avevo 20 anni, aveva avuto un infarto e prima di entrare in sala operatoria voleva dirmi addio. e nella corsa verso l'ospedale ho bucato una gomma. Però è sopravvissuto e quello spavento mi ha fatto credere di poterlo perdonare. Finché per caso non ho conosciuto Francesco, un altro suo figlio, di cui non sapevo nulla. Francesco aveva avuto tutto, il sostegno, il denaro, l'amore. Io invece soltanto la rabbia. Mi sono avvicinata a papà prima del mio matrimonio. Ero così felice che mi sentivo pronta a dimenticare. A casa sua ho scoperto decine di mie foto e che forse sentiva anche lui un dolore grande, la vergogna. Ma ancora una volta ci siamo allontanati. Mi scriveva solo saluti banali, stupide gif e non mi bastava. Ero nello studio di amici quando mi hanno detto che era mancato. L'ho abbracciato finché non mi hanno portato via con la forza. Quel giorno ho capito che a volte devi imparare a prendere il meglio che una persona può darti anziché lamentarti per ciò che non ti ha dato.